Io ho dato una mano a queste persone, ma sono stato abbandonato a me stesso. Se uno ha due figli, come fa a decidere quale delle due è la figlia predilecta? Non si può dire che non ti abbia dato una possibilità. E quello che posso fare adesso è provarci molto più di quanto ci abbia provato a noi. Grazie per la visione!